Approvato in giunta il progetto esecutivo per la riqualificazione del sottopasso ciclopedonale dei Cappuccini a Pesaro. L'intervento dal valore complessivo di oltre 700 mila euro prevede la messa a norma e il rinnovamento dell'attuale sottopassaggio che collega il centro storico e stazione con la zona di Pantano. Tra i più importanti perché si interviene su una zona, se vogliamo, l'unica zona degradata della nostra città in un sottopasso oggi pedonale che collega la parte di Pantano, di Villa San Martino rispetto alla zona del centro, della stazione del treno e del mare. Un intervento che andremo a realizzare a partire dal mese di maggio per cui come ufficio, come Garappalti, siamo già partiti rispetto alle ditte con le manifestazioni di interesse rivolte alle ditte. Un cantiere che coinvolgerà anche Marche Multiservizi che ringrazio anticipatamente per la disponibilità e per l'intervento con il quale andrà a rimuovere le interferenze rispetto alle condutture del gas che qua passano. In che cosa consiste questo intervento? Sono 700 mila euro, come dicevo, ci sarà una messa, se vogliamo, anche in sicurezza della zona ma un addolcimento di queste pendenze, oggi del 15%, con una pendenza dell'8%, quindi darà la possibilità anche alle biciclette di poterlo attraversare senza dover scendere dalla bicicletta. Una riqualificazione di questa zona con un maggiore decoro anche delle zone verde, una maggiore illuminazione, la realizzazione anche di una telecamera di sicurezza e quindi un intervento che, se vogliamo, ridarà anche splendore, come dicevo, ad una zona che in questo momento in realtà si presenta decisamente non tra le migliori della città. Quello della stazione è un nodo strategico del progetto di rigenerazione urbana della città, una zona sulla quale l'amministrazione, in accordo con le forze dell'ordine, sta lavorando molto per trasformarla e renderla più vivibile, fruibile e sicura. Quando si fa un'opera di riqualificazione cambiano anche le frequentazioni poi che girano intorno a questa zona. In questi mesi devo dire che c'è stato un lavoro importante, portato avanti dalla polizia locale sotto l'assessorato Enzo Belloni, ma anche un ringraziamento a tutte le forze di polizia, a cominciare dal questore, dal comandato dei carabinieri e da tutti coloro che in questi mesi stanno portando avanti operazioni importanti. Un intervento in questo che durerà tanto perché richiede tutta una serie di attenzioni e anche di problematiche da gestire. Gli interventi riguarderanno il sottopasso e non solo. Infatti è prevista la realizzazione di un centro dedicato a tutte quelle attività collegate alla bicicletta. La bicicletta poi diventerà anche questo un luogo centrale rispetto alla realizzazione di un bike hub nell'ex deposito delle locomotive della stazione del treno. Diventerà un luogo dove dall'officina ha tutta una serie di servizi collegati all'utilizzo delle biciclette nonché la realizzazione anche di un vero e proprio deposito, di uno spazio dove chi raggiunge la stazione del treno o il centro storico potrà lasciare in sicurezza perché sarà un luogo video sorvegliato con l'accesso utilizzabile soltanto mediante una tessera magnetica dove si potrà lasciare la propria bicicletta. Sono due interventi però molto importanti che danno anche continuità rispetto alla riqualificazione di questa zona.